Dopo mesi di intenso lavoro, mesi faticosi, finalmente anche al San Donato di Arezzo si registra un crollo dei ricoveri. Come può essere letto questo dato, da un lato l'arrivo della bella stagione e dall'altro l'intensa campagna vaccinale? Affortunatamente i numeri, come diceva, sono in rapida discesa e oggi notiamo, almeno questa stamani, 39 pazienti tra l'area Covid e la terapia intensiva. Ora le cause sicuramente da una parte l'applicazione della campagna vaccinale, che sia pur in ritardo sta recuperando in queste ultime settimane, quest'ultimo mese. Ora l'aspetto epidemiologico è un po' controverso, però se andiamo a riflettere su quello che è successo anche l'anno scorso, verosimilmente c'è una maggiore vulnerabilità, quindi nella diffusibilità almeno del virus in questa fase della stagione. E poi l'altro aspetto, e anche questo è un po' controverso, è quello dell'adesione almeno in alcune sacche sociali nei confronti dei sistemi di protezione individuale, che rimangono sempre ovviamente la linea maestra per poter andare avanti e mantenerci sotto il livello di guardia. Dopo mesi intensi, come abbiamo detto, si torna perlomeno un po' a respirare all'interno di queste corsie? Sicuramente sì, noi navighiamo sempre a vista, la cautela ovviamente viene predicata ogni giorno, però in queste ultime settimane approfittiamo anche per allentare un po' la pressione su tutto il personale, se è possibile ovviamente cercare di far prendere un po' il respiro, anche prendere giorni di ferie. Ci sono collaboratori, infermieri e altri operatori professionali che per più di un anno non sono riusciti ad andare in ferie, avevano soltanto il recupero proprio settimanale, quindi questa è la fase per poter permettere questo tipo di restoro, sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista psichico. Come ho detto però la cautela non deve mai mancare, ricordiamo che è ancora necessaria la massima attenzione, forse ora più che mai. E questo è importante sottolinearlo, ecco grazie per la domanda sicuramente, perché è una fase in cui appunto il rilassamento, la riduzione dello stress, rendersi conto che i numeri stanno crollando, stanno cadendo a picco, potrebbe portare quindi a un rilassamento, un abbassamento che purtroppo vediamo, soprattutto anche nei giovani, nei confronti della protezione, nei confronti del virus. Però abbiamo anche l'esperienza dell'anno scorso, però è vero che non c'era il vaccino, in cui la ripresa è stata piuttosto tumultuosa. Quindi ricordiamoci che esiste anche l'elemento non chiaro anche della variante, quindi non possiamo considerare una protezione del 100%, quindi deve rimanere questo tipo di normativa di sicurezza soprattutto.